Vai! Adriatic Games 2015 CFPS Top Matteo Giovannelli Parmucci Luca Roberto Sodano Categoria Scaled Giudice Mattia Rossi Fiji Fiji 15 kg B3 Vici Vici Vório B12 Gu Bi Vi Non Frio No 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! 3, 2, 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 via! 3, via! 3, 2, via! 4, via! 4, via! 4, via! 4, via! 4, via! 4, via! 5, via! 5, via! 5, via!